Le teniamo isolate così esauriamo tema per tema. Prima domanda, la Clip 3, chiedo alla regia. Ho letto sul giornale che ci sia la possibilità che possa essere eliminata la quarantena per i positivi a patto che siano vaccinati e siano asintomatici. Se è vero questo e quando ci sarà questa rivoluzione, dopo due anni di costrizioni comunque. Intanto mi permetto di fare un piccolo commento perché il telespettatore o comunque l'intervistato ci trasferisce un tema che forse si lega anche ai titoli dei giornali. C'è una stanchezza diffusa e quindi probabilmente anche i governi devono fare i conti con questa stanchezza, no? Quando dice perché dopo due anni. Detto questo, quarantena eliminata per gli asintomatici positivi? Allora, il concetto è questo. Questa si chiama Covid fatiga, la gente non ce la fa più, non ne può più. Però la cosa importante è che non ricommettiamo gli errori che abbiamo fatto nei due anni precedenti e ritorniamo in una sorta di anno della marmotta in cui succede esattamente quello che è successo prima. La cosa differente adesso è che noi siamo molto vaccinati in Italia e quindi c'è sicuramente una limitazione della circolazione del virus dovuta al fatto che c'è una percentuale altissima di vaccinati. Questo ci consente qualche allentamento perché non è come due anni fa a maggior ragione diciamo all'inizio quando non c'era il vaccino. Quindi però queste cautele, questi allentamenti vanno fatti con un ragionamento. Non è un liberi tutti come fa Johnson che dice Vabbè, basta, finito. Diciamo, se tu sei infetto, se tu sei contagioso, se tu in qualche modo sei sintomatico chiaramente devi seguire un certo percorso perché significa che la tua circolazione virale è molto alta e sei in grado di contagiare. Se tu sei sintomatico significa che il tuo corpo è aggredito da una carica virale importante se hai sintomi. Esattamente, è presumibile che sia. Se non hai sintomi è più facile che tu abbia una carica virale bassa. Esattamente. E quindi ti puoi permettere di circolare? Ma sempre con un ragionamento di cautela, non è un liberi tutti. Cioè sempre con la mascherina, FP2. Sempre con una mascherina e sempre sostanzialmente con una sorta di autosorveglianza cioè nel momento in cui c'è una sintomatologia, c'è uno squilibrio nella tua condizione psicofisica allora ti devi allertare, devi stare fermo. E invece possiamo immaginare che questa rivoluzione dell'asintomatico positivo arrivi in tempi rapidi? Allora, in tempi rapidi significa settimane, voglio dire, non in giorni. Ecco, significa verificare che questa curva, come sta succedendo, si appiattisce e presumibilmente questo succederà a marzo. Cioè noi abbiamo avuto un gennaio catastrofico, 10.000 morti centinaia di migliaia di casi abbiamo avuto un febbraio che sta diminuendo però ancora non appiattendosi presumibilmente a marzo ci sarà questo appiattimento. E quindi sarà possibile eventualmente allargare le maglie per i non sintomatici. Ok, Alessio che succede?